La direzione del distretto sanitario 64 di Eboli Buccino ha comunicato che a fine dicembre è stato completato il trasferimento del poliambulatorio distrettuale e degli uffici dalla vecchia sede di Cogliano Bagni a quella di Oliveto Citra, prospicente al fabbricato dell'ospedale. Nella nuova sede, pertanto, sono riprese ed assicurate all'utenza tutte le attività, nel mentre la direzione distrettuale si sta adoperando per rendere i locali accoglienti e funzionali ai bisogni dei cittadini. Grazie